16 dicembre 1944 è il giorno del discorso di Mussolini al lirico di Milano, la sua ultima apparizione pubblica. Il duce lascia il suo rifugio sul lago di Garda e alle undici entra al lirico annunciato da tre squilli di tromba. Il teatro è gremito, la folla lo applaude, ma nel suo discorso Mussolini insiste su temi che in più avvertono ormai loro.